Comunque, comunque, la frase di Guido che qualcuno porta è piaciuta, mi sembra comportato. Comunque, ma no, ma comunque è bella. Io l'ho vista una cosa, ma non l'ho vista una cosa. Cosa è quel bicchiere lì? Un rifugio di montagna del Veneto. A me ci sembra una cosa... Ci impegniamo perché...